Un biglietto d'ingresso per la rigiera di San Sabba? Sì, no, non saprei. Sì, certo, perché per mantenere un edificio simile io penso che sia necessario dei contributi. No, non vi trovo giusta. Non lo so, guarda, non sopra cosa dirti. Questa è in sintesi le risposte date dalla gente riguardo la proposta discussa nei giorni scorsi ed avanzata dall'assessore alla cultura Paolo Tassinari. L'idea ha inizialmente agitato le acque all'interno del mondo politico con le reazioni di Marini e Camber di Forza Italia, contrarie all'introduzione di un ticket di ingresso a pagamento per visitare la risiera ed il commento di Toncelli del Partito Democratico che ha colto con riserva l'iniziativa, volendosi prima prendere il tempo di approfondire la questione. Quindi ingresso libero o ticket a pagamento? Lo abbiamo chiesto questa mattina ai cittadini di Trieste. Direi di no, perché sono dell'idea che è un posto, una situazione dove tutti devono avere la possibilità di vedere, di visitare, proprio perché è estremamente interessante e noi a Trieste abbiamo la fortuna di poterlo visitare comodamente. Sì, perché se non è per mantenere la risiera a posto, per avere dei fondi, perché sia trattata meglio. Al contrario perché c'è un museo storico e uno deve andare là, quando li ha portati là, come ho letto sul giornale, non li ha pagati. No, dovessi essere gratuito. No, penso che dovrebbe essere gratuito, negli serisiera, mi sembra un monumento importante. Io personalmente cercherei soldi da altre parti, non saprei bene quali, ma insomma non questo. Sì, sono d'accordo perché bisogna pagare, così possiamo tenere in ordine tutti i nostri beni culturali. No, no, per niente. Come mai non siete d'accordo? Perché c'è un posto storico, non è che bisogna sempre pagare per tutto, c'è ancora pagò anche, già pagò per andare in bagno, anche in bar, cioè dai.